Si è conclusa la quattrodicesima giornata di Fanta Calcio e andiamo a vedere chi sono stati i migliori tre top e peggiori tre flop di questo turno. Iniziamo con i top, con Mertens, miglior giocatore di giornata con una doppietta nella sua serata in cui era chiamato a sostituire l'infortunato Ozyman. Sarà la prima di tante visto la prolunga assenza del nigeriano e chi ci ha puntato su di lui può continuare a farlo. Fanta Voto 14 Candre Iva, ancora prestazione da incorniciare con un gol e un assist che lo confermano come miglior centrocampista per rendimento Fanta Calcistico finora di questa stagione. Il consiglio è di continuare a puntare ancora su di lui perché altri bonus sicuramente verranno. Fanta Voto 11.5 Berardi, ancora una volta si conferma la bestia nera del Milan con un gran gol che mette il punto esclamativo su uno stupendo pomeriggio del Sassuolo. Ormai è una certezza assoluta per il Fanta Calcio ed è quasi impossibile decidere di privarsi di lui. Fanta Voto 10.5 E passiamo a vedere che sono stati peggiori in questa giornata. Iniziando con Kier. Non si salva nessuno tra i rossoneri e il danese paga più degli altri in termini di Fanta Voto per l'autogol del 2 a 1 che arriva dopo un flipper impazzito nell'area rossonera. Il Milan dovrà necessariamente riprendersi e per farlo dovrà contare sul miglior Kier. Fanta Voto 2.5 Molina. Dopo aver mostrato segnale di ripresa l'argentino fa nuovamente un passo indietro con una brutta prestazione a cui si aggiunge il carterino giallo. Non è tutto da buttare ma il suo impiego è da valutare partita dopo partita. Fanta Voto 4.5 Patrick. Partita horror della Lazio e ovviamente tutta la difesa paga d'Azio. Lui più di tutti con un primo tempo negativo su tutta la linea e la sostituzione nella ripresa. Nulla di tanto inaspettato in realtà. L'ex Barsa è un giocatore poco utile fantacalcisticamente e il consiglio di evitarlo. Fanta Voto 4. Questi sono stati i migliori 3 top e peggiori 3 flop della quattordicesima giornata di Fanta Calcio. Se vi è piaciuto questo video cliccate su mi piace, seguite il nostro canale e cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. Vi consiglio inoltre di seguirci sui nostri social e su nostro sito tuttofantacalcio.it